Il merito è drammatico. La scelta dell'Italia di bocciare un trattato europeo è senza precedenti nella storia dell'Unione Europea. Quando si è votato contro la Costituzione Europea in Francia e Olanda furono dei referendum. Questa è una scelta politica della maggioranza di governo. Neanche l'Ungheria di Orban si è mai spinta tanto in là, nell'indebolire la struttura, il cammino dell'Unione Europea. Quindi come giustamente prima il vostro servizio ricordava, si aprono delle questioni politiche non minori. Forza Italia si è astenuta perché risponde al Partito Popolare Europeo, che è una delle grandi famiglie europee che sostiene il MES e sostiene l'integrazione europea. Insieme a noi moderati, lo voglio ricordare, perché se no ogni volta lui vi dice ma esistiamo anche noi. Si sono astenuti anche loro. Assolutamente. Il PD ha votato a favore del MES perché condivide con il Partito Socialista Europeo lo stesso percorso. È una posizione molto diversa dai 5 Stelle che infatti non appartengono alle tradizionali famiglie politiche che hanno costruito l'Europa. Quindi questo è quello che è avvenuto. C'è una parte di Italia che oggi si è chiamata fuori dalla costruzione europea. Quindi questo è un fatto senza precedenti, molto chiave a conseguenze e che naturalmente è in parte anche frutto di quanto è avvenuto il giorno prima dove Francia e Germania avevano raggiunto un accordo. Al tavolo la Francia rappresentava anche l'Italia. L'Italia aveva dato luce verde in una riunione fra i spetti dei ministeri delle finanze alla bozza che è stata poi approvata dal patto di stabilità. Una volta che la Francia l'ha annunciato, la Presidente del Consiglio Meloni ha cambiato idea, ha iniziato a puntare i piedi e poi alla fine ha dovuto, ottocollo, votare a favore anche perché il suo ministro dell'economia glielo suggeriva, ma poi il giorno dopo ha reagito in questa maniera. Certo, tutto ciò avvicina la Meloni a Salvini, preannuncia una campagna di estrema destra e verso le europee da parte di Fratelli d'Italia assieme alla Lega, ma questo allontana la Meloni dalle grandi famiglie dell'Europa.